Una generazione cosiddetta grande è una nave di 400 metri di lunghezza. Le navi con le quali è nato il porto di La Spezia erano navi di 80 o 100 metri di lunghezza. Erano navi che gestivano 80 contenitori. Questo tipo di navi deve essere in grado, e noi dobbiamo essere in grado, di gestire circa 7.000 contenitori. Quindi è un problema di dimensioni, è un problema di crescita, è una sfida che è l'unico modo per rilanciare con forza il concetto di La Spezia e del sistema La Spezia che ha detto Stefano Magra come punto di eccellenza dell'intero sistema logistico italiano, non più portuale ma del sistema logistico italiano. Questa è la sfida del futuro che c'è davanti.